eccoci qua benvenuti in questo nuovo video come fanno tutti gli youtuber come si dice siamo in un paese dovrebbe essere un paese disabitato che però ci sono delle macchine parcheggiate quindi qualcuno ci abita adesso andiamo a fare un giro vediamo comunque questa è l'entrata lì c'è il parcheggio sono con il mio amico diego diego è già andato su e vediamo se lo becchiamo un paesino disabitato o comunque ci abitano veramente poche persone ma c'è un cane però che abbaglia quindi no qualcuno ci abita si chiama cerreto di saludezzo eccolo diego l'abbiamo beccato visto vi presento diego ecco qua un cane abbaia quindi qualcuno ci abita qualcuno non è proprio disabitato diobbo la salita si questa è la chiesa ah si siamo venuti perché vuole fare una dronata siccome ha preso un drone si sta sperimentando sta esercitando però voleva farlo in spazi così per vedere anche come riprende anche da qui è bello però e guarda che paesaggio lui puoi farlo in lontananza quanto può arrivare ah beh come in altezza certo si quindi guardando puoi passare anche sopra la casa c'è la chiesa che si vede tutto il paese e qui si vedono le colline la qua giù si è andato a vedere si si è andato a vedere e faccio un giro intanto sa che te prepari ah bellino dai vedi vedi dopo qua si va giù infatti niente torniamo giù no ci sono più uccellini ciao prendono anche le uova uova fresche diverse ma ammellate fatte in casa a vari gusti allora vuol dire che mangia tanto ma dopo il telefono dove lo metti davanti c'è il porta vedi eccola ma le devi aprire o sono così no si aprono da sole ah si ecco uuuu io l'ho in alto ma stai facendo i video o fai le foto? stai girando i video ah si dopo poi io l'ho molto, lo smonto eh dalla GoPro non si vede ok infatti adesso spengo un attimo dopo quando lo rifai siamo nella fase dell'atterraggio la dronata è stata fatta sembra venuto bene il video ho fatto delle belle riprese però c'è l'atterraggio adesso che c'è un po' di vento sembra fatica a farlo atterraggio ah deve scendere sotto le case una volta che scendo sotto le case ah deve scendere sotto le case così c'è meno vento ok adesso un po' più a destra una pallata di vento proprio adesso ecco infatti una pallata di vento che ci ha riportato sulla casa oh oh vai ci siamo questo giro ci siamo vai fase dell'atterraggio di metterte la fase no no adesso non a terra no? ah lo tieni ancora un po' in volo? ma stai facendo il video a noi? ah ecco ahah ciao beh io ti riprendo con la GoPro hai visto? ciao ciao ahahah quanto c'è il TV oh che lo mandi addosso eh ah ti vuoi allenare un po' anche a fare i voli vicino alle case così eh non deve essere facile poi tira la follata di vento oh difficile eh eh beh tenerlo controllato poi si fa un po' di vento infatti oh eh 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 adesso sterrerei si e poi decollerei dalla sotto quell'angolo la eh vedi? quell'angolo lì è bello infatti ma dopo ce n'è ancora di batteria per... si sono ancora più di tre quarti guarda lì sposta le foglie quando passa come un ricottero vai oh 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 vai forse 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 e non è proprio in piano ah non trovava l'appoggio ah vedi c'è anche le mosche scotta? no c'è un'interferenza ah ma al massimo riavvia per essere sicuro no no è su... solo sulla bustola ah che prendi tetto del ruolo unico si ah giù di sotto non da quel terrazzo lì no 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 voglio decollare proprio da sotto da sotto si preferito da sotto ma molto più spazio di una nuova si va bene allora rispengo via ecco qua un'altra abbronata adesso via oh è andato niente non si vede già più piccolo piccolo adesso siamo al momento dell'atterraggio perchè sta stando di nuovo il vento comunque le riprese le ha fatte dopo vediamo cosa è venuto poi magari se me le dà vi monterò anche io in un prossimo video o in questo o in questo video ecco devo mettere a posto il purtroppo ieri notte ho esploso il computer mentre stavo facendo un lavoro a un video e boom penso sia solo l'alimentatore però adesso devo trovare una soluzione o ne faccio uno nuovo oppure cerco di eccolo come è soddisfatto del tuo dronata? sì adesso vediamo fuori dopo la casa eh quando vai a casa vedi cosa è venuto fuori certo tanto dal telefonino per lì è fatica poi c'è il sole perché c'è questo vento eh adesso è rifermato beh proprio invece prima ma quanti minuti avresti ancora per volare? ah quindi altri hai detto 20 minuti mezz'ora con altri 15 minuti ci avresti più pratici intanto iniziamo così beh si ma si dai allora ecco poi adesso prima visto che non voglio tirare giù la scheda video le tiro giù il telefonino ah li puoi scaricare te li passa automaticamente? con il wifi anche si ci mette un po' di più eh beh direi perché poi sei fatto i 4k un mp4 fai gli mp4 in 4k? eh o un avi no mp4 si quanti ne ha fatti? ah ne ha fatti i 4 e 5 quindi adesso aspettiamo che li passa si e io fumo una sigaretta intanto inizio a chiuderlo va bene allora salutiamo 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 questo nuovo video ci proviamo adesso poi vediamo cosa è venuto col drone tanto ancora siamo i primi esperimenti ecco ci vediamo l'inferno e che ora è un'imperimenti chiude e ci vediamo che vi senti